A Gadlerner io gli faccio schifo, come gli fanno schifo Belpietro, Giordano, Del Debbio e questa cosa voglio dire più che reciproca è anche comprensibile, insomma si può far schifo a persone come Gadlerner e si possono avere idee completamente diverse. Io non ho mai pensato che per fare bene il giornalista bisognasse prendere la tessera del partito più importante come quello democratico come ha fatto Gadlerner, penso che è forse una delle piccole regole per non far schifo alle persone che ti leggono e non prendere la tessera di un partito. A me fa schifo un personaggio come Gadlerner che fa il giustizialista contro Berlusconi e poi fa il garantista con gli amici suoi, a me fa schifo chi pensa alla professione giornalistica con il manganello come fa Gadlerner, a me fa schifo l'ipocrisia di uno come Gadlerner che pensa di avere sempre la verità rivelata. Però c'è una cosa che forse non sopporto di Lerner, è quando c'è quella rietta là che è tipica di quelli che scendono dall'elicottero dell'ingegner De Benedetti e scrive, come è scritto in questo piccolo El Zeviro, scritto in italiano pessimo sul venerdì, so che quelli lì, intendendo il sottoscritto ed altri giornalisti, si arrabbiano quando descriviamo il mix sovranista e anticasta con venature razziste e fasciste dell'Italia che impersonano. Sostanzialmente noi siamo razzisti e fascisti o meglio abbiamo delle venature. Allora vedi Gadlerner, il problema tuo è che non ti vuoi dare pace, non ti vuoi dare pace che è finito il tuo mondo, è finito quel giro in cui ti applaudivano, siete rimasti quattro gatti e quelli che non la pensano come te non necessariamente sono razzisti o fascisti, sono un po' più connessi a quello che avviene nel mondo fuori da quel elicottero col quale tu hai costruito la tua carriera, questo è il punto fondamentale. Ti possiamo far schifo noi, certamente, ma sentirsi dire che noi si è razzisti e fascisti da uno come te è soltanto un complimento.